Buon giorno, mademoiselle. Ciao, ma come sei vestito? Comunque dammi pure del tuo, eh? Ma anche tu vai a scuola. Ah, io, brioche, nutella, caffè latte, 7.30 sveglia, 7.45 pullman e alle 8 a scuola ancora assonnata. Due, quattro, sui, uet, cinque. Ma cosa stai facendo? Eh, scusate, lì ho un trendo e passi la lecce. Ma no, noi i nostri risultati li abbiamo qui. E i tuoi libri? Ma la tua cartella? Noi siamo interattivi e studiamo qui. I nostri libri sono qui. E quel pezzo di legna? Ma quante cose hai oggi per andare a scuola? Ma scusate, eh? Ma vi sento voi saudate. Con i termosifoni? Ah, no, 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 no. Non è un po' tutto sui baghi, eh? Sa, sa. Lettar. Non fa franga lì. All'è un asciattino e novere. Non è un tanto di baghi a prendere. Uè, uè. In cucchiai e uzzard e uec lecce. Buon giorno. Graziesti a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.